ciao a tutti amici di youtube oggi io parlo del punto quadro perché il punto quadro fa parte del gruppo delle sfilature semplici ed è uno dei punti più utilizzati per dividere le colonnine prima della lavorazione di una sfilatura quindi ora vi farò vedere i vari passaggi per la realizzazione del punto quadro un'altra cosa che tendo a precisare è che quando io vi fornisco delle misure delle trame non sono delle misure standard cioè nel senso sono soltanto delle misure indicative perché poi dipende molto dal tessuto che andate ad utilizzare quando realizzate il ricamo quindi quando andate a sfilare le trame la quantità di trame da lasciare da sfilare dipende dallo spessore del vostro tessuto è sottile il tessuto e più trame bisogna sfilare per riuscire ad ottenere il risultato sperato più spesso il tessuto quindi più larga è la trama e meno bisogna sfilarne altrimenti andrete ad ottenere un risultato completamente diverso da quello che vi siete prefissate all'inizio quindi io ora vi do le misure indicative in base al tessuto che utilizzo io che è un lino a trama sottile poi insomma regolatevi voi in base al tessuto che andrete a lavorare appunto e quindi per lavorare il punto quadro ho sfilato una trama ne ho lasciate cinque e ne ho sfilato un'altra ora inizio la lavorazione del punto quadro lo farò senza telaio perché mi viene più comodo così però voi potete farlo anche con il telaio prima di iniziare vado ad inserire l'ago e il filato con dei punti in questo modo ma giusto dei punti per lasciare un po di filato qui e fissarlo poi sul retro successivamente senza creare nodi e esco praticamente nel primo punto disponibile della mia sfilatura nella parte bassa a destra perché questo punto si lavora da destra verso sinistra ok quindi lascio il filato in questo modo poi a fine lavorazione vado sul retro lo tiro e lo fisso sotto i punti quadro in inizio la lavorazione del punto quadro portandomi praticamente dalla parte bassa alla parte alta in questo modo con un punto sempre da destra verso sinistra passo sotto 5 trame perché perché ne ho lasciate 5 qua tra una sfilatura e l'altra quindi ne vado a prendere 5 per dare appunto la forma quadrata del punto quindi mi inserisco in questo modo prendo le mie cinque trame qui e sfilo in questo modo realizzato la prima parte del punto poi la seconda parte consiste nel ritornare indietro con l'ago il filato quindi sempre in questo punto e andiamo a fare un punto obbligo per portarci nella parte inferiore quindi con questo punto obbligo vado praticamente ad inserirmi qui che nella parte inferiore in corrispondenza dell'uscita del filato della parte superiore e sfilo quindi giunti di nuovo nella parte inferiore quindi giunti di nuovo nella parte inferiore vado di nuovo a fare il punto verso c'è il punto indietro qui per completare quest'ultima parte del punto quadro e esco di nuovo qui e sfilo ok a questo punto manca l'ultima parte e l'ultima parte coincide anche con la prima del punto quadro successivo quindi si procede sempre con questi punti e queste direzioni obbligatorie del lago e del filato quindi vado di nuovo nella parte alta vado a prendere 5 trame sfilo e come potete vedere il primo punto quadro è ultimato quindi si passa direttamente al secondo quindi sempre con il mio punto obbligo mi sposto di nuovo nella parte bassa quindi si ha questa alternanza continua di punti nella parte alta e punti nella parte bassa lungo tutta la nostra sfilatura modo da formare appunto questa fila di quadratini identici perfetti uno all'altro e continuiamo sempre in questo modo chiaramente può essere utilizzato sia per una fascia decorativa quindi utilizzato singolarmente sia per le sfilature quello è l'utilizzo più frequente che sia nel punto quadro può essere utilizzato anche come punto di attaccatura vi avevo già mostrato i vari procedimenti in un video pubblicato un po di tempo fa quindi una volta lavorata tutta la lunghezza dei punti quadro andiamo a chiudere il lavoro e a fissare il filato sul retro quindi vado a fare l'ultimo punto in questo modo e mi porto sul retro del lavoro e andiamo a fissare sia questo filato che quello che abbiamo lasciato all'inizio quindi capovolgo qui questo è il retro del punto quadro e per fissare il filato senza creare nodi o praticamente vado ad inserirmi sia sotto questo punto che sotto questo lo faccio per tre o quattro volte poi sfila e taglio il filato in eccesso qui in questo modo vado a fissare un lato di filato e vado a fare la stessa cosa con quest'altra parte di filato lasciata in precedenza quindi inserisco il filato nella crona dell'ago e vado a fissarlo sfilo anche in questo caso e taglio sempre il filato in eccesso ok quindi questo è il retro senza creare nodi e questo è il diritto quindi come vi dicevo è un punto che si presta a vari utilizzi questo il suo utilizzo più semplice quindi può essere una semplice bordura una piccola decorazione del nostro ricamo può essere utilizzato nelle sfilature e nelle doppie nelle triple sfilature e infatti il mio prossimo video sarà proprio su una doppia sfilatura vi voglio far vedere in che modo si può utilizzare si può ottenere un risultato molto carino vi saluto e vedo appuntamento al prossimo video ciao